Ciao ragazzi e ciao ragazze, partita molto, posso dire che mi ha confermato tutto quello che penso, l'Inter non ha una grande qualità, la dimostrazione è stata stasera a centrocampo, per 60 minuti, Spalletti ha schierato, ha messo bene in campo la squadra, quindi si doveva chiudere molto prima la partita su 1-0, 1-2-3-0 si doveva andare perché la Juventus è entrata in campo ma non con quella voglia sicuramente che aveva l'anno scorso, il secondo tempo dell'anno scorso, forse anche per quello dovuto ai nostri bellissimi primi 60 minuti e a loro sono venuti un po' meno gli stimoli, noi invece avevamo tutto da guadagnare partendo come gioca una provinciale dando tutto e infatti dopo il sessantesimo già per me alla fine al primo tempo Politano non ne aveva più, è un lavoro massacrante il suo ragazzi, guardatelo bene, io non lo amo ma assolutamente non sono contrario alla sua presenza anche in un futuro in questa rosa, lui ci può stare, anche se la mia domanda che vorrei fare sempre al nostro coach è se io fossi il presidente dell'Inter e ti vengo a comprare un Messi e un Cristiano Ronaldo e tengo i cardi, cosa fai? me ne lasci due in panchina di questi tre, me ne lasci due in panchina per giocare sulle fasce laterali, far giocare Perisic e Politano perché devono coprire le zone del campo o mi fai giocare, cerchi in tutte le maniere di fare giocare quei tre là, vicino dove si fanno i danni e gli altri sette, eh? fanno la fase di non possesso palla, eh? è questo la mia domanda tutto qua perché alla fine parliamoci chiaro ragazzi, si vince quando si fa un gol più degli altri, no? e con Perisic e con Politano è tremendamente difficile fare gol, questa è la mia idea e con questo schema così largo, con questi due ragazzi giovani e forti, però giovani e forti non stringono mai, non stringono mai al centro, non lo so se è una loro non qualità o è una disposizione tattica del nostro coach, però facciamo fatica a stringere verso il centro e creare e creare più pericoli, i cardi lì in mezzo, sì, contro la squadra campione d'Italia, fate voi, no? tutto qua, poi per il resto ragazzi, la qualità dei centrocampisti, Vecino è una cosa orribile, eh? Brozovic è appena appena sufficiente, quello che è venuto su da Roma fa una partita bella, 10 brutte, stasera ha fatto una partita molto bella, se a voi va bene così, a me no, io non sono contento della stagione di Nainggolan, Peric non sono contento anche se stasera ha giocato bene, ma io non sono contento, non sono contento né della stagione né del ruolo che ricopre, come lo ricopre in questa squadra, tutto lì, io non sono contro il coach, non sono contro nessuno, io vedo la televisione, vedo la partita allo stadio, vedo i ragazzi, vedo i giocatori come si muovono e trago le mie conclusioni, ripeto, non abbiamo una grande qualità, questi, rispetto all'anno scorso, ragazzi lo sappiamo tutti, no? Questo campionato è già finito, l'anno scorso invece era stata una partita purtroppo, purtroppo per noi molto seria e molto condizionata anche da altre cose che non mi va di ripetere oggi, oggi è andato via tutto tranquillo, ma vaffanculo, mi vien da dire, no? Ma andate a fanculo tutti quanti, però vabbè, bene così ragazzi, una partita in meno, domani vediamo, le altre non stanno benissimo, Lazio, l'Atalanta sta bene, il Milan sta benino, secondo me il Milan è lì anche lui, se la va a giocare fino alla fine, ce la giochiamo fino alla fine, noi abbiamo qualche punto in più, anche se domenica abbiamo una partita molto importante, secondo me, vi dico solo che per me è una partita molto importante e utile, molto più importante di quella di oggi, oggi sapevamo benissimo che potevano venire fuori tutti e tre risultati, domenica a noi serve un risultato solo, allora vai a fare le ultime tre partite in un'altra maniera, no? Ok? Perché dopo ne mancano tre, mi sembra, aiutatemi. Comunque, la mia domanda a Siamo Spalletti è quella, se resta l'anno prossimo ancora con questo schema? O lo cambiamo un po'? Io spero che lui abbia terminato e per il resto ragazzi non lo so, non lo so la proprietà, cosa vuol fare? Vedremo, sempre Forza Inter, amiamola sempre, i colori, la cosa più importante, tutto il resto cambia, i colori restano. Ciao ragazzi!